In occasione della Settimana Europea per la Mobilità Sostenibile, dal 16 al 22 settembre, il Comune di Napoli promuove una grande campagna di comunicazione al cittadino per informarlo che cambia la mobilità in città, soprattutto nel centro antico. Il 22 settembre verranno istituite due nuove corsie riservate su Via Pessina e Via Duomo, quindi ricordo a tutti i cittadini che non potranno nel tratto centrale più attraversare la città. Questa settimana, oltre a questa iniziativa molto concreta e permanente per alleggerire il traffico nel centro antico della città, ci sono decine di iniziative via Caracero-Pedonale, sabato pomeriggio e sabato sera, il Piedibus, un progetto per accompagnare i bambini a scuola in modo da evitare che i genitori utilizzino sempre l'automobile, più un programma delle associazioni per promuovere un uso sostenibile della città. Percorsi, dibattiti, iniziative, riqualificazioni e fiori nelle fioriere, proprio per dare il segno che questa città ce la vogliamo rivivere a piedi, in bicicletta, col trasporto pubblico, decisamente meglio rispetto al passato. Tutte le iniziative in occasione della Settimana Europea per la Mobilità Sostenibile e i provvedimenti concreti di regolazione del traffico nel centro antico, potete trovarli sul sito del Comune, naturalmente, cliccando proprio nel settore della mobilità. Vi invitiamo a partecipare a tutte le iniziative sia dell'amministrazione che delle associazioni in questa occasione di livello europeo a cui il Comune di Napoli ha aderito.